Ciao ragazzi, come va? Io sono Dangofor e quest'oggi facciamo un bello scherzetto a mio amico che si chiama Luca. Praticamente lui dovrebbe essere dietro questa parete, vedete? Dietro qui. E lui è dietro e praticamente sta giocando a Fortnite con il mio account e gli farò un bello scherzo. Per esempio, quando sarà in partita e sta per vincere, per esempio, lì staccherò la connessione internet. Così non potrà più giocare a Fortnite e perderà malissimo. E potremo vedere la sua reazione. Adesso intanto andiamo a controllare cosa fa. Facciamo silenzio perché è qui dietro. Oddio, un caccia che bello, l'aria. Un caccia. Che fai? No, niente, stavo bloggando. Tu sei il mio amico Luca, lui è il mio amico Luca. E stai giocando a Fortnite e faccio prendere un tomb room della casa, quello che fai in casa. Tu intanto giochi, bene. A dopo. Ciao. Ciao. Ok, ragazzi. Allora, Luca. Qui dietro. Andiamo qui. Ok, sta giocando. Ha fatto un'altra kill. E adesso aspetterò. Tra un po', vado di nuovo a controllare. Vediamo quanti giocatori ci sono. Quando ce ne sono pochi, magari in fight, tipo uno contro uno, magari un po' così, li staccherò proprio. Connessione internet, lo spegnerò, il router, e poi lui non potrà più giocare. Aspetiamo un attimo e dopo continuiamo. Ok, ragazzi. Com'è, Luca? Stanno andando bene il tuo game? Sì. E cosa stai facendo te? Eh, sto controllando perché... Veramente, il blog consiste a vedere quanto sei forte a giocare. Quanto... Allora, ho 9 eliminazioni e siamo in pochi. Bene, mi fa molto piacere. Grande, Luca, vai, vai. Grazie. Vai, 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 vai. Mi ha beccato di nuovo, ma... Lui non sa cosa so per farli. Ragazzi, come si cavolo si spegne, sto a farlo. Qui c'è l'altro robot. Aspettate. Qui c'è scritto il LED, e qui il power. Quindi, teoricamente, se primo qui, si spegne tutto. Spento, spento, riaccendiamo. Allora, riaccendiamo. È ancora acceso, è acceso. È acceso. Sto ripiando! Vieni, ti è finto! No! No, 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 no. Ciao, Luca, com'è? Stai perdendo? Dai, dai, oddiaci! Che c***o! Conezione! Luca cosa sta succedendo Perché stai laggando Ok 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 No 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 Lasciami Vado Ok ciao Bene ragazzi Allora piano ho riuscito L'ho spento internet per due secondi E già si è Completamente quasi morto E sono solamente in venti Tipo giocatori con 9 kg Ottima partita per Luca Ma La rovinirò Spento? Riacceso? Riacceso? Bene Perché continuo a urlare Luca? Luca Luca in realtà Non usa questo router Ma in realtà Lui sta usando questo Qua sotto Quindi se io stacco Questo E anche questo Per sicurezza Perché magari si collega in tutte e due Guarda Dove proprio crashare tutto Luca Luca crasherà Che succede di nuovo? Non funziona niente 12 di ping Eppure doveva funzionare tutto no? Che è successo Luca? Ragazzi È crushato Mi sa quasi Adesso Come si accende? Cosa stai facendo con la connessione? No Cosa stavi facendo con la connessione? Ero al computer A fare La banca È stato? Sì Banca è stato Banca è stato Una giovane come te Basta Stai re Eh ma per il No No Che stai registrando Cosa fa strutto Questo video Finisce qua No Luca Addio No 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 Ragazzi Mi sa che Se l'hai presa Malissimo È finito Malissimo Sentite Si è arrabbiato Malissimo Quasi mi stava picchiando Ok ragazzi Mi sa che Possiamo finire Qua Ma è crashato Stava per vincere Tipo 3 contro 1 Lui stava per vincere Quasi ho fiato Un sacco di kill Stava facendo Una bellissima partita Poi Arrivo io Arrivo Il king Dell'internet Non accendiamo tutto Perché qui Altrimenti Luca impazzisce Anche questo qua sotto Perché non so qual è collegato Bene Mi sa quello sopra Ma per sicurezza Ho toccato anche quello sotto Perché mi sa che Luca Era collegato a questo Poi dopo si L'ho spento E si è collegato A quello in cantina Solo che è lontanissimo Con quello lì Quindi laggava un sacco Però funzionava ancora Nel senso Quando l'ho staccato qui Ho proprio crashato malissimo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se si lasciate un bel like Cos'è? O vuoi che mettono like Per un prossimo video? Sì ragazzi No Voi non mettete nessun Voi non mettete nessun like A nessun video Aiole Per non fare più Questi maledetti video Andate via Non scrivetevi più Se l'hai proprio preso male Ragazzi Se l'hai proprio arrabbiato Preso male Direi che possiamo finire Così il video Io me lo Sto facendo Macielo Luca Dite che Possiamo finire Beh La finiamo così Ciao Ciao